Buongiorno a tutti, siamo molto contenti di avere qua oggi con noi Salvo Manzone, regista palermitano ma attivo anche in Francia, a Parigi, che ha appena presentato a Torino al Festival Cinema Ambiente il suo ultimo lavoro, La finestra sul porcile, che abbiamo avuto il piacere di poter ripresentare qui a Bologna nella sala del Cinema Lumière proprio ieri. È stata una proiezione molto interessante in cui sono emersi molti temi e il pubblico ha partecipato in maniera molto intensa, probabilmente perché i temi proposti dal film suggeriti sono davvero di grande attualità e permettono al film di rappresentare un momento importante sia come documentario in sé, che è fatto con grande cura e con grande anche maestria nel entrare proprio nelle corde del documentarismo più impegnato, ma anche appunto per i contenuti che si ricollegano a tante iniziative legate all'argomento dei rifiuti. Salvo, comincerei a chiederti, insomma, per chi non ha visto il film, per chi non ha ancora visto il film che appena appunto, che non era a Torino, non era a Bologna, nelle sale, anche partendo dallo spunto ideativo del film, che ci parlassi delle motivazioni che ti hanno spinto a fare il film e come è stato realizzato in questi anni. Sì, grazie per la presentazione. Quindi sì, la finestra sul porcile, diario ecicocchiano di un ecologista siciliano, questo è il titolo un po' lungo, infatti per brevità la finestra sul porcile, l'ho appena finito di montare, appena uscito e quindi infatti questa Bologna era la seconda proiezione assoluta dopo quella al cinema ambiente di Torino. Il film infatti è un, diciamo, penso anche questo toccava agli spettatori che erano presenti ieri a Lumière, è un film che racconta dei problemi ambientali, in particolare quello dei rifiuti, però mettendolo in una chiave personale, individuale e questo chiaramente per me era lo scopo principale, cioè nel senso io mi occupo di tematica ambientale ormai da quasi una decina d'anni, anche filmando incontri, dibattiti o anche facendo quello che è videodocumentazione, non solo documentari, però appunto nel documentario io cercavo di trovare uno spunto che potesse permettere agli spettatori di entrare in una storia, di identificarsi e di poter capire quanto, diciamo, sia importante il nostro contributo negativo sui problemi ambientali, riscaldamento climatico e il resto, il nostro contributo eventualmente positivo per la risoluzione. E quindi voleva essere sia un film, diciamo, che partisse da un, diciamo, quello che si dice tecnicamente una denuncia, cioè l'espressione di un problema per arrivare ad una possibile soluzione o comunque ad una strada percorribile che possa risolvere. Questo, diciamo, detto in maniera molto astratta, poi concretamente il film invece è una storia che parte da una discarica abusiva che si trova di fronte al balcone di Casemia a Palermo e quindi la storia, diciamo, il primo nucleo della storia è quello, diciamo, della risoluzione di questo problema. Un problema che poi sembra facile apparentemente ma in realtà coinvolge tante realtà, tanti livelli della nostra società, cioè il primo, quello individuale, poi quello, diciamo, collettivo del vicinato, poi quello dell'amministrazione, della circoscrizione, della città. Quindi, diciamo, a partire appunto da questo nucleo mi espando e parto per un'inchiesta che in realtà va al di là, chiaramente, del mio problema personale, che è solo una scusa e cerca di indagare il problema dei rifiuti ad una scala piuttosto cittadina, cioè mi attacco, diciamo, al problema dei rifiuti urbani, dei rifiuti domestici. Però poi, diciamo, vado al di là fino a, diciamo, interrogarmi proprio sul concetto di rifiuto. Nel corso del tuo viaggio, che si svolge tra l'altro in diversi anni, tu fai degli incontri importanti, intanto appunto con tutte le persone intorno a questa discarica, a livello proprio fisico, nel senso i vicini di casa, le persone che frequentano il quartiere, poi gli amministratori comunali, poi i responsabili dell'igiene pubblica e tanti altri attori che vengono, a mio parere, presi in considerazione appunto nella loro complessità di esseri umani che clottano contro un problema importante e che nello stesso tempo si ritrovano incapaci di gestire una questione così complessa. Apparentemente semplice, ma molto complessa. Però poi c'è l'incontro con Zero Waste, che è abbastanza cruciale per il film. Ci descrivi questo incontro? Sì, quindi come dicevo appunto, sia, diciamo, da un punto di vista della sceneggiatura, ma che poi la sceneggiatura rispecchia molto la mia vita personale, nei conti come la discarica, e diciamo questa presa di coscienza, il film alla fine racconta un po' una presa di coscienza individuale, personale, la mia, mi avvicino al, conosco il movimento ambientalista Zero Waste, che alla fine, diciamo anche là, su scala prima cittadina e poi nazionale, se non questa strategia Zero Waste, che chiaramente, cioè rifiuti zero in italiano, che molti prendono alla lettera, chiaramente è una strategia, cioè una tendenza verso i rifiuti, verso la riduzione dei rifiuti. Chiaramente non è domani che si fa, si possa facilmente arrivare a non produrre rifiuti, però l'importante è capire qual è la tendenza, cioè l'importante è capire che il trattamento dei rifiuti non deve semplicemente farli sparire dalla circolazione, ma deve tenderli alla loro riduzione. E quindi incontro, diciamo, la fortuna di incontrare Paul Connett, che è il guru di questo movimento, uno scienziato americano, che viene spesso in Italia per tenere conferenze e animare appunto sia il dibattito in generale sui rifiuti, sia proprio da diversi anni il movimento Zero Waste. E poi Rossana Ercolini, che ha avuto qualche anno fa il premio Goldman, che è l'equivalente di un premio Nobel per l'ambiente, appunto per il suo attivismo nel movimento Zero Waste in Italia e la sua lotta all'inceneritore che doveva essere costruito vicino Capannoli, la sua città in Toscana. Certo, tutto questo progetto è stato sostenuto anche produttivamente da Salvo Manzone, che da anni realizza le sue opere in totale indipendenza con la società Epinoia che ha creato a Parigi. Questa indipendenza, quanto è importante per la realizzazione dei tuoi progetti? Allora, diciamo un'indipendenza editoriale, nel senso che in pratica effettivamente, diciamo io ho un percorso personale un po' diverso, nel senso che ho fatto dei studi di ingegneria e poi ho lavorato in diversi campi e comunque appunto per me il documentario, che è comunque la mia passione, quello che voglio fare, voglio che da anni cerco di farne un mestiere ma rimanendo coerente con quello che voglio esprimere, cioè nel senso per me è importante poter fare film su temi che mi interessano e con la libertà di poter esprimere le mie idee. Quindi in questo caso effettivamente l'indipendenza di cui tu parli è importante, non sempre diciamo magari producendo documentari per la televisione o in altri contesti editoriali si può avere questa possibilità. Detto questo ho avuto anche per fortuna la possibilità, la fortuna di avere, di vincere un bando della Sicilia Film Commission che ha largamente contribuito alla produzione di questo film che appunto come dicevi si è svolta su diversi anni, su diversa scala territoriale con diverse persone perché appunto io sono un personaggio in campo quindi diciamo a differenza magari di altri documentari indipendenti in cui è possibile che il regista faccia anche le immagini, in questo caso non era tecnicamente possibile, quindi in realtà sono stato circondato da un'equip per la realizzazione di questo documentario. quindi diciamo da un lato un'indipendenza editoriale e dal lato per fortuna anche dei partner come appunto la Sicilia Film Commission e anche la Sony che ha supportato il progetto con diciamo prestandomi per quasi tutta la durata di questo film una buonissima telecamera C'è anche un aspetto antropologico linguistico che è molto interessante nel film, c'è l'incontro con un linguista, c'è una con un antropologo e questa dimensione ulteriore che va oltre la denuncia ma appunto scava proprio nelle radici di un atteggiamento, di una cultura è qualcosa che contraddistingue tutti i tuoi lavori o è una novità di questo ultimo film? Diciamo spero che sia un segno contraddistintivo dei miei lavori nel senso che cerco sempre di diciamo io non ho un approccio, una cultura giornalistica che molto spesso nel bene come nel male diciamo si attacca al pezzo come si dice cioè diciamo alla notizia invece è quello che mi permette di fare il documentario e chiaramente altri tempi e altre diciamo tempi produttivi, tempi di maturazione è quello di andare sul cercare di analizzare il fondo di una questione e quindi per me chiaramente diciamo l'aspetto linguistico antropologico sono fondamentali per capire i fenomeni umani, anche quello della produzione dei rifiuti. Bene, sai già di altre proiezioni che avverranno nelle prossime settimane o la distribuzione ancora è in lavorazione? La distribuzione è totalmente in lavorazione perché appunto come dicevo appena finito il cinema ambiente di Torino ha avuto diciamo la ho avuto la fortuna di averlo selezionato su copia lavoro ovviamente non l'avevo ancora finito quando l'avevo sottoposto alla selezione e quindi ancora non ho una strategia produttiva però sicuramente per esempio visto che il film parla chiaramente di Palermo e di Capannoli sicuramente nei prossimi mesi organizzerò una proiezione in queste città e poi spero che appunto tramite altri festival se non anche una distribuzione più ampia possa essere distribuito sicuramente in Italia spero anche in Francia dove vivo e diciamo ho cercato anche di dare un aspetto internazionale al documentario cioè appunto come dicevo attaccandomi in profondità al problema e non solo agli aspetti diciamo tecnici del problema ma più generali creare un film che possa interessare qualunque tipo di pubblico ecco bene allora facciamo molti auguri a salvo per la sua attività e lo ringraziamo per essere stato con noi qui a Bologna buona giornata grazie grazie a tutti grazie a tutti